Ciao a tutti, sono Giovanni della Terza Binfo e oggi vorrei parlare della canzone di Rancore Silvestri che hanno portato a Sanremo 2019, è una canzone molto bella a parer mio che tratta argomenti importanti soprattutto ai giorni d'oggi i due cantanti Silvestri e Rancore sono abbastanza conosciuti in Italia Silvestri è un cantante pop rock e blues e ha sempre trattato nelle sue canzoni di argomenti molto importanti e che dovrebbero essere conosciuti a tutti gli italiani infatti in questa canzone tratta l'argomento della scuola dei giorni d'oggi Rancore è un cantante rap invece che anche lui ha sempre utilizzato una metrica molto complicata e anche gli argomenti molto forti i due insieme a parer mio stanno molto bene e sono riusciti a trovare un collegamento molto interessante tra i due generi completamente diversi la canzone parla principalmente della scuola, infatti nel ritornello dicono che hanno 16 anni ma è già 10 anni che vivono in un carcere e dicono che prima di nascere erano già destinati a finire in questo carcere e nella canzone il carcere è inteso come la scuola infatti spiegano come la scuola non sia più moderna ma sia rimasta come nel passato e gli alunni sono portati a non seguire più la scuola ma a essere interessati da molte altre cose e a parer mio questa canzone è molto bella infatti ha vinto anche il premio per la critica di Sanremo e secondo me comunque sarà la più ascoltata di quelle che ci sono state a Sanremo e quindi